Ho solcato i mari da Trinidad, da Tortuga, ma non avevo mai visto niente del genere. L'anello di fidanzamento che avevo dato ad Elaine era maledetto. Sono queste le prime testimonianze storiche di un pirata caraibico che raccontava al mondo come Tortuga fosse, no? No, questo no, questo è il diario di Guybrush Tripp di Monkey Island 3, però da un lato non hai detto una cosa sbagliatissima. Ma diciamo così, che questa frase di Monkey Island 3 è uno dei pochi riferimenti fatto ai caraibi veri che vediamo in tutta quella serie, forse seconda solo Port Royal del primo capitolo. E così come Port Royal, però tu non potevi esimerti da citare, perché non l'avevamo citato abbastanza negli episodi precedenti ancora, quindi ti sei rifatto così. Comunque è così che appunto Tortuga Port Royal, abbiamo visto, è stato uno dei luoghi importantissimi per i pirati nel passato e anche Tortuga ovviamente fu un luogo di fondamentale importanza. Per questo pure un mondo fantasy appunto come quello di Monkey Island, come quello dei pirati dei caraibi, eccetera, eccetera, non si possono mai esimere dal nominarla. Sì, aggiungo che anche Skab Island era un luogo importantissimo dell'epoca dei pirati. Ecco, quello forse meno, quello forse meno. Oggi non andiamo a Skab Island, oggi andiamo a Tortuga, luogo dove siamo già stati in passato nei nostri episodi precedenti, però ci torniamo e ci torniamo... Perché? Perché oggi torniamo a parlare di bucanieri, quindi prepariamo armi e bagagli, soprattutto le armi, e torniamo a solcare i mari con quegli infami dei bucanieri. Sigla! Eccoci. Allora, anzitutto Danilo, anzitutto direi di fare un piccolo recap. Sì. Questa stagione 9 è una stagione di reboot, l'abbiamo detto e ripetuto. Siamo tornati ai caraibi, stiamo ripercorrendo la storia dei pirati della Golden Age, l'abbiamo fatto partendo dalla letteratura e con personaggi che non c'erano niente con i pirati, però avevano scritto molto di pirati e avevano interpretato con le loro vite dei pirati talvolta, ma oggi torniamo proprio nella storia, e oggi abbandoniamo i racconti e entriamo a gamba tesa nella storia vera e facciamo un piccolo recap, soprattutto per ribadire dei concetti. Noi abbiamo spesso spiegato più volte la differenza tra bucaniere, corsaro, pirata, eccetera, tutte figure che in realtà sono abbastanza interscambiabili per molti punti di vista, però oggi ci concentriamo molto sulla figura dei bucanieri e delle loro avventure tra Sud America, Caraibi, passando appunto soprattutto per Tortuga, che era un censo nevralgico. E i bucanieri non ci accompagneranno solo per questo episodio, ma anche per i prossimi, perché faremmo proprio un percorso molto storico della Golden Age in questa stagione, passando appunto dall'epoca dei bucanieri, poi dei rounders, poi di Nassau, e poi chiuderemo in bellezza. Ma tornando al racconto di oggi, i bucanieri nascono come un gruppo di cacciatori che vivevano sull'isola di Ispaniola, nei Caraibi, Ispaniola, piccola nota di colore, anche per ricorregarci agli episodi precedenti, è il nome della nave dell'isola del tesoro, il nome dei bucanieri viene invece dal bucan, che è un termine nativo di Haiti, di Ispaniola, per indicare la graticola di legno su cui si cuoceva la carne. Carne di questi cacciatori, che veniva stagionata e essiccata nel cuocente sole tropicale di Ispaniola, cucinata sulle griglie di legno a forma di cupola, che in francese venivano chiamate grill de bois, ma che appunto in nativo venivano chiamate bucan, forse dal termine taino barbacoa, che è la stessa radice del nostro barbecue. Quindi, aspetta, quindi i bucanieri sono praticamente i barbecueri, oppure alla francese i grill de boisieri, vabbè, c'è andata bene con bucanieri, diciamola. C'è andata bene con bucanieri. Comunque la storia è molto semplice, la loro storia sembra molto semplice. In realtà questo discorso dei cacciatori e preparatori di carne, insomma, inizia e muore lì, perché si sono spesso, si sono molto presto reinventati a fare qualcos'altro, e bucanieri è diventato un termine ombrello per indicare praticamente i pirati corsari che si aggiravano nei Caraibi nella seconda metà del Seicento. Comunque i bucanieri, tornando alle origini, dobbiamo immaginarceli dunque come individui liberi, individui senza legge, vestiti con pelli di animali, armati di spade, di coltelli, soprattutto di lunghi moschetti per cui erano famosi. Erano tiratori scelti eccezionali proprio perché erano cacciatori eccezionali. Sin dall'alba della loro storia, i bucanieri sono caratterizzati da un odio verso gli spagnoli, forse secondo solo a quello del Corsaro Nero di Salgari, odio che accompagnerà tutte le loro imprese, soprattutto perché gli spagnoli tendevano spesso a cercare di liberarsene, di sradicare questi individui dai loro possedimenti. E Tortuga perché diventa importante? Perché i bucanieri, a un certo punto, visto che gli spagnoli erano piuttosto perseguitati, decidono di spostarsi a Tortuga, che è appunto un'isoletta che è attaccata a ispaniola, e formano una vera e propria fratellanza, chiamata quella dei fratelli della costa. Già dagli anni 30 del 600, i bucanieri iniziano a mollare la preda di terra e dirigersi verso quella di mare e quindi cambiano le prede, c'è un incremento dal punto di vista della loro tecnologia bellica e delle armi, ma soprattutto delle loro ambizioni, perché gli spagnoli da quelle parti erano parecchio ricchi e se i tuoi nemici sono parecchio ricchi, i bottini anche. Si fanno una fama di individui barbari e spietati, come spesso abbiamo raccontato nelle storie sui bucanieri, deviano spesso nel gore, nello splatter. Insomma, non dobbiamo stare qui a ricordare l'olonesi in una seconda volta. I bucanieri furono protagonisti di numerosi rider, si, e ne abbiamo parlato spesso, attacchi a sorpresa, rapidi, veloci dal mare o anche da terra, come il famoso attacco a Portobello di Henry Morgan nel 1668. Morgan, che è forte di un CV di razzie e massacri, riuscì in una rispettabilissima carriera politica. Ebbè già, ci si era fatto la cavetta. Certo. Giusto, giusto. Ricordiamo anche che dal XVI secolo entra nella storia il termine Spanish Main o in spagnolo terra firme, terra ferma, ovvero tutti i possedimenti spagnoli dell'impero nel nuovo mondo, dall'entroterra costiera attorno al mare dei Caraibi fino al Golfo del Messico fino in realtà a buona parte del Sud America. Ci vorranno secoli prima che la Spagna ammolli la presa su tutti questi possedimenti. Le nazioni nemiche furono certo una delle cause di questo ammollare la presa. Lo furono anche alcuni pirati rivoluzionari di cui abbiamo parlato e di cui torneremo a parlare, ma lo furono anche in maniera cruciale le incursioni appunto dei bucanieri che gli diedero non poco filo da torcere, mostrando anche come un impero può risultare indifeso contro un commando di razziatori assetati di tutti. È vero, le nostre storie lo dimostrano sempre. In questa puntata noi partiamo da testi su cui ci basiamo, ne cito qualcosa, ad esempio a Aspettate, è un titolo un po' lungo A Co-Evolutionary History of Buccaneering in Hispaniola di Claudio De Maio, autore che a sua volta cita altri testi, ovviamente nel suo saggio fra cui Historie Generale de Antille Habité e poi cita il grande Ex-Chemelin che ovviamente ormai per noi è un must, da questi testi cosa emerge? Emerge che su Hispaniola lo stile di vita nomade e basato sulla caccia fu un modo sia per sopravvivere procacciando quel che serviva sia per difendersi appunto dagli attacchi degli spagnoli stiamo parlando quindi di tribù di nomadi che possiamo dire cercavano di sopravvivere cioè sia quando cacciavano che quando si difendevano stavano sopravvivendo avevano strategie di caccia molto precise passavano da 12 mesi a 2 anni a infiltrarsi per andare a cacciare nei territori più selvaggi dell'isola soprattutto per l'impegno richiesto dalla loro attività quindi cacciare grandi animali trasportarli verso gli snodi commerciali dell'isola dove commerciavano la carne salata e così via possiamo immaginare quindi anche una grande fatica in questo loro stile di vita parlando di bucanieri cacciatori parliamo di caccia cinghiali maiali bestiame in generale loro emulavano il sistema di condivisione di spazi e di terra del vecchio mondo quindi alla loro attività di caccia associavano territori specifici quindi delimitati in un certo qual modo chiamati Dezabulan che ogni volta era possibile occupare da gruppi composti da 5 o 6 cacciatori Dezabulan è un termine che l'autore del saggio che abbiamo citato prima prende da Eschemelin stesso e quindi è Eschemelin che ormai sapete pirata scrittore che ci ha insegnato il termine Dezabulan e se vogliamo questo Dezabulan può essere in un certo qual modo un concetto legato a tutti i discorsi che a volte facciamo nella taverna o quando parliamo di anarchia perché quello del Dezabulan è un concetto molto particolare perché da un lato parliamo appunto di nomadi che vivevano alla giornata senza legge imboscati che si andavano a cercare territori molto difficili esatto ostili però liberi persone libere e dice Eschemelin persone dedicate anche alla dissolutezza e di sicuro non pacifiche per niente però dall'altro lato nonostante li descriviamo così con tutto l'aspetto selvaggio e caotico stiamo parlando di individui che però si organizzano fra loro hanno una regolamentazione convivono pacificamente pur avendo questo stile di vita dissoluto pericoloso e armato e questo è molto interessante dal punto di vista anche dei concetti che noi trattiamo in taverna comunque i bucanieri con chi commerciavano perché abbiamo detto adesso commerciavano commerciavano con i piantatori con i coltivatori cioè fornivano la carne per tutto l'anno a un certo prezzo ottenevano in cambio altre merci altri elementi di sussistenza il tabacco ottenevano quello che serviva loro per andare avanti era uno scambio e i coltivatori erano solito soliti fornire anche supporto ai cacciatori mandando con loro aiuti magari tratti dalla loro schiera di servitù per poterli supportare nella loro attività così da essere sicuri che poi sarebbero loro tornati con la carne per poter avere da mangiare si tra l'altro proprio questo saggio che hai citato tu fa un riferimento molto interessante su come queste specie di mille vaganti del nuovo mondo abbiano contribuito a diventare loro stessi come dei pionieri di questa nuova frontiera infatti me li immagino un po' come i mountain man del far west il loro stile di vita e questa modalità di caccia selvaggia chiamiamola così era proprio fuori dagli schemi nell'Europa dei mercanti eppure furono proprio i bucanieri a essere come spiega appunto il saggio che hai citato quella benzina per la spinta transatlantica delle rotte commerciali ora tu hai descritto brevemente la loro economia però questa economia basata su questi straccetti di manzo chiamiamoli così che si chiamavano vianducanea anche se probabilmente lo dico male carne essiccata proprio letteralmente carne essiccata sì erano una fonte di apporto proteico per i marinai non da poco pirati avventurieri marinai proprio in generale che navigavano lungo le rotte commerciali emergenti in quel periodo nei Caraibi la carne secca veniva venduta in mazzi da 100 strisce per 6 pezzi da 8 e scambiati con pirati e mercanti in cambio di manufatti munizioni tabacco e alcolici quindi la produzione di carne dei bucanieri non era solo una risorsa strategica di sussistenza è una risorsa economica era proprio un'attività commerciale vera e propria uno strumento diplomatico che ha permesso loro di mantenere non solo la propria indipendenza ma anche rapporti con varie entità e anche garantire insomma la propria difesa personale perché erano un asset importantissimo da quell'età esatto le attività dei bucanieri erano essenziali anche per i piccoli proprietari di piantagioni perché come dicevano avevano come dicevamo avevano appena cominciato a stabilirsi nella parte libera dell'isola furono dunque i bucanieri dei protagonisti veri e propri delle rotte commerciali atlantiche quindi violenti quanto vogliamo però protagonisti esatto e questa fratellanza di tortuga che hai citato invece da cosa nasce spieghiamo meglio anche questo i bucanieri dovevano affrontare le vessazioni spagnole costantemente anche se Flavio ci ha detto gli spagnoli dovevano affrontare le vessazioni con i bucanieri coltivatori loro quindi tendevano a nascondersi anche per questo oltre che per la caccia nelle zone più fitte di spagnola quindi immaginiamo questi centri più civilizzati dei coltivatori e questi cacciatori che andavano nelle zone veramente wild e ne tornavano dopo mesi con cinghiali appesi alla schiera e impararono i bucanieri a creare dei sistemi di difesa proprio come diceva Flavio prima perché le loro comunità erano molto volatili fragili dovevano sopravvivere essere ben organizzate le loro libertalia chiamiamole così iniziarono a formarsi facciamo facendo un volo pindarico ovviamente sia storico che filo però ci seguite loro costruirono un sistema di difesa sulla piccola isola rocciosa di Tortuga situata a poche miglia dalla costa nord-occidentale e larga meno di 50 miglia di circonferenza Tortuga era una stazione commerciale strategica era veramente una stazione commerciale riconosciuta era perfetta per risiedervi perfetta anche se sai adattarti ovviamente a del stile di vita un po' più così e per stoccare le merci quindi Tortuga cosa divenne divenne quindi ci stiamo spostando da Ispagnola andiamo in questa isola rocciosa di Tortuga che diviene il paradiso del libero scambio che diviene improvvisamente si crea una stazione commerciale incontrollata nata dall'esigenza di dire a me serve una base che per me sia protettiva roba che vediamo sin dai piratici lici essere stato un motivo per trovare un posto qui si crea una nuova comunità che è viva a livello commerciale e qui si crea una stazione di commercio gli spagnoli conquistano l'isola due volte nel 1629 e nel 1635 ma Tortuga rimase un quartier generale bucaniere soprattutto grazie al castello fortificato di Levasseur che abbiamo già menzionato in altre puntate ma non è il Levasseur quello del tesoro di Levasseur ma era un ingegnere che aveva appunto strutturato questa difesa dell'isola di Tortuga quindi una fortificazione vera e propria ma anche per capire che sono iniziati magari come cacciatori eccetera ma poi si sono evoluti in ben alzo perché c'erano gli ingegneri militari eccetera esatto qua proprio assistiamo all'evoluzione e quindi anche come ci dice il buon Schemelin esattamente cos'è che ha affermato lo stile di vita dei bucanieri perché da un lato stiamo dicendo si sono spostati si sono organizzati Flavio giustamente dice si sono evoluti però il motore non è solo il volersi evolvere era anche che non avevi altra scelta perché la cacciagione le prede stavano diminuendo e le azioni degli spagnoli stavano aumentando ecco che lo spirito di sopravvivenza dei bucanieri li porta a evolversi a diventare questa piccola base fortificata diventano quindi loro qualcosa di diverso si staccano dal rapporto con quella terra con la terra in generale e prendono la via del mare lo fanno creano questo melting pot di francesi inglesi olandesi che dice dite voi ma cosa le accomunava l'odio per gli spagnoli ovviamente e diedero vita adesso all'inizio dell'età d'oro della pirateria quindi si passa sostanzialmente dalla caccia ai maiali alla caccia ai dobloni nell'arco di una parentesi storica non molto lunga comunque tu l'avevi citato diverse volte e io intervengo oggi per fare il recap facciamo anche un recap su questo ex-Chemelin la persona di cui il nome non riusciremo mai a pronunciare bene chi era questo personaggio lui è la risposta alla domanda ma esiste una storiografia piratesca non è l'unico ma è probabilmente il più importante Alexandre Olivier ex-Chemelin in una delle prossime puntate inviterò inviteremo un ospite che lo sa pronunciare bene quindi svederà l'arcano lui fu un pirata iscrittore definizione molto bella tra l'altro e disse sulla propria pelle molte delle vicende dei fratelli della costa ai quali si unì liberamente per libera scelta dopo il fallimento in quella zona della compagnia francese delle indie occidentali e lui si partecipò alle attività chiamiamole così dei bucanieri in qualità di chirurgo si fu un protagonista di azioni passate alla storia come il più celebre dei ride con insomma Rakaib il più celebre che ce ne sono stati non sfacela il suo American Sea Rovers racconta proprio le vicende degli anni 60 caraibici tra i predoni del mare il libro è diviso in tre parti la sua partenza dalla Francia arriva a Tortuga poi c'è una digressione storica sui bucanieri di Spaniola e di Tortuga e poi tutte le storie di personaggi come l'Olonese e Morgan insomma è un libro dell'Olonese sì visti i nomi che hai fatto come l'ultima parte era la prima volta che uno stile di scrittura così asciutto proprio da cronaca e giornalistico si cimentava a raccontare storie dei pirati la storia generale dei pirati di Johnson è molto successiva se ci pensi e proprio per questo il libro di X-Chemeline suscitò parecchio scalpore anche se i giornali dell'epoca si parlavano di pirati però era la prima volta che si descriveva quel mondo proibito se vogliamo molto violento e affascinante e poi così pieno di dettagli perché tutte quelle storie magapre che noi raccontiamo sui bucanieri molto spesso vengono da lì in Inghilterra questo libro arrivò grazie agli sforzi di William Crook nel 1684 dove il libro prende il titolo Buganieri d'America e Crook nel 1685 pubblica anche una seconda edizione con delle interpolazioni ovvero delle aggiunte tra cui un racconto su Bartholomew Sharp personaggio su cui torneremo nei prossimi episodi scritto da Basil Ringnose che anche lui non era un pirata però era un cartografo e un esperto di geografia e di racconti di mare per qua tornando a Ex-Kemeling come ultimo aneddoto divertente una cosa che citiamo spesso ma è sempre bello tirare fuori abbiamo detto che nell'ultima parte del libro lui parla molto di Morgan e Morgan che ormai era un politico in carriera all'uscita del libro si infuriò parecchio appunto perché Ex-Kemeling lo descrive come un feroce pirata e quindi lo sfida a duello però non lo sfida con la spada non lo sfida con la pistola ma lo sfida con l'avvocato e quindi non al grido di ti taglio la gola ma al grido di ti porto via tutto che uno non se lo aspetta poi sta in tribunale e Sch-Kemeling chissà com'è finita quella storia lì comunque molte delle storie dei buganieri che raccontiamo appunto sia negli episodi passati sia in questo episodio vengono proprio da Ex-Kemeling e a questo punto Danilo io ti chiedo di raccogliere qualcuno di questi racconti che tu hai sapientemente riformulato anche per le nostre rubriche sui social e raccontarci come se tu fossi un novello Ex-Kemeling qualche storia di buganieri del Seicento allora visto che mi inviti ne tiro fuori due che tra l'altro come dici tu abbiamo poi noi abbiamo scritto una rubrica ma qua parliamo del 2021 che si intitolava Bucanieri Celebri che usciva periodicamente sulla nostra pagina Facebook di solito la celebrità del bucaniere era direttamente proporzionale al numero di morti fatti dal bucaniere e infatti uno di questi è Monbar lo sterminatore ora vi raccontiamo questa storia è benissimo sappiamo tutti bene quanto violenti belluini sanguinari fossero i bucanieri e quando vi diciamo che Daniel Monbar nato nel 1645 è morto presumibilmente prima del 1710 circa era egli era detto lo sterminatore non vi risulterà difficile immaginare come mai la cosa peculiare di Monbar è che egli diceva di essere divenuto bucaniere per vendicare i nativi sterminati dalla ferocia del colonialismo spagnolo sarà stato quella la sua vera missione noi ci auguriamo insomma di sì pare che egli sia nato in lingua d'oca nel sud della Francia da una famiglia benestante ebbe una formazione da gentiluomo lesse molto dei sopprusi studiò molto sui sopprusi compiuti dagli spagnoli contro i popoli nativi del nuovo mondo e soprattutto grazie agli iscritti di De Las Casas che era un frate domenicano che era una sorta di attivista fra virgolette per i diritti dei nativi dell'epoca spinto da ideali se vogliamo un po' Don Chisciotteschi Monbar si unisce a suo zio nella Royal French Navy in guerra contro la Spagna tra il 1667 e il 68 raggiunge i Caraibi dove affronta e è protagonista di una battaglia impari contro due navi da guerra spagnola l'imbarcazione dove si trova affonda suo zio e suo mentore muore durante lo scontro quindi oltre alla motivazione politica per odiare gli spagnoli Monbar ne ha anche una personale desideroso di vendetta Monbar raggiunge tortughe e si unisce ai bucanieri iniziando una carriera all'insegna del sangue ma visto che ci sono i dettagli truculenti sai che mi piace fare l'infame li lascio sempre a te raccontaci i dettagli truculenti grazie ti ringrazio molto comunque si pare che Monbar questo soprannome se lo sia proprio guadagnato quando dici la meritocrazia abbiamo reso conto che descrive un attacco a un galeone spagnolo e praticamente dopo l'abordaggio si dice che Monbar abbia guidato di persona un rappello di pirati per fare più male possibile alla ciurma dei malcapitati per strappare una resa incondizionata a quel punto cito testualmente il suo unico piacere pareva essere il solo contemplare non il tesoro del vascello catturato ma il numero di spagnoli morti e moribondi contro cui aveva giurato odio eterno voto che mantenne per tutta la vita secondo me a un certo punto Monbar che era partito perché li odiava per il colonialismo poi li odiava che era morto a un certo punto secondo me non si ricordava più neanche lui li uccideva e basta ma perché li odio vabbè non importa ammazziamoli ma tra l'altro la cosa bella è che Monbar paradossalmente è passato alla storia come uno dei più clementi dei bucchetti cioè quello che faceva lui era anche abbastanza rispetto ai colleghi era anche abbastanza un uomo di pietà però diciamo non al punto tale da non meritare appunto questo soprannome perché lui comunque aveva ok magari non uccideva a sangue freddo in maniera indiscriminata però quando lo faceva lo faceva fino in fondo ecco questo era il senso della clemenza di Monbar non che fosse clemente però diciamo uccideva almeno con una mira in testa ecco e da qui il nome di sterminatore anche sterminatore per il fatto di aver razziato un gran numero di navi ed insediamenti spagnoli Veracruz Cartagena Porto Cabaio San Pedro Gibraltar e Maracaibo tutti i nomi che tornano ciclicamente come diciamo nelle nostre puntate quando queste popolazioni si vedevano invase dai pirati dicevano è già mercoledì pomeriggio però Flavio so che non vedi l'ora ti rilascio vedi di parlarci del metodo di tortura preferito di Monbar ah di dai io non vedo l'ora comunque sì visto che ci siamo quando parliamo di bucanieri e la tortura è sempre presente ecco ti racconto questo perché questo metodo di tortura con questo Monbar si raggiunge quasi le vette sanguinose dell'Olonese quasi eh pare infatti che la sua tortura preferita la tortura preferita dello sterminatore consistesse nel tagliare chirurgicamente il ventre del marcapitato di turno estrarre un lembo di intestino inchiodarlo da qualche parte dopodiché eh incitare il poveraccio con dei tizioni ardenti per farlo ballare fino a che morte non sopraggiunga aspetta che se no qua mi accusano perché poco fa ho detto tu dicevi che era clemente è uno dei più clementi no allora voglio provare a difendere l'indifendibile Monbar perché eh forse io inizialmente in questa sua eh idea cavalleresca di andare a proteggere le popolazioni però effettivamente più racconti più eh la mia tesi iniziale inizia a crollare però voglio provare a ridargli un po' di umanità allo sterminatore per dire che non era solo sterminio e torture aveva anche un animo romantico cioè per questo era diverso dall'ollonese allora lui ha avuto una relazione stabile che non ne fa uno romantico cioè bisogna anche vedere però con Christine Bicca Montabon figlia del conte di Montabon e se c'è ancora questa famiglia questo ramo nobiliare ci denuncerà per come abbiamo pronunciato il nome comunque figura di primo piano perché responsabile costrui dei rapporti commerciali tra i fratelli della costa e la corona francese eh tra l'altro nel 1690 il buon Monbar ha un figlio con la sua Christine Claude Jacques Bicca Montabon Monbar lo sterminateur no vabbè la storia comunque finisce in modo misterioso perché Monbar pare sia scomparso in mare durante uno dei suoi viaggi circa 1707 ma come la tradizione pare abbia con la sua genga accumulato nascosto un grosso bottino sull'isola di Saint-Barthélemy eh e se questa è la prima storia di oggi non oso immaginare la seconda allora la seconda in realtà si lega molto a Monbar perché parliamo di un suo contemporaneo di un altro confratello della costa brasiliano ma non er brasiliano ma rock brasiliano no non stiamo non siamo siamo a rock brasiliano allora rock brasiliano era un grande amico di Monbar questo li abbiamo messi insieme esatto allora sull'amicizia del brasiliano di rock brasiliano diciamo che l'articolo che ho scritto nel 2020 si esatto per dire citava citava che rock brasiliano amasse girare per port royal completamente sbronzo attaccando passanti a caso e se ti rifiutavi di bere con lui lui ti sparava questo è l'inizio voglio dare proprio l'inizio allora è un pirata olandese nato probabilmente a Groningen emigrato giovanissimo con la famiglia nelle colonie brasiliane dell'Olanda il suo nome originare pare fosse originario pare fosse Gerrit Gerritzun ma grazie al fatto di essere cresciuto in Brasile grazie anche un po' al fatto che tutti questi personaggi poi avevano soprannomi tamarri divenne rock brasiliano naturalmente aveva un pessimo carattere naturalmente quindi bucanieri più violenti in cima c'è anche lui inizia come corsaro nei mari di Bahia poi si sposta nel 1654 a Port Royal per unirsi ai fratelli della costa prima però avanzava un po' di tempo a cui dato un ammutinamento perché dice no avanzava un attimo di tempo visto il suo temperamento rock si trovò a suo agio tra i bucanieri e come abbiamo detto meno a suo agio erano i bucanieri perché se ti rifiutavi di bere con lui ti sparava naturalmente ovviamente tra l'altro lo chiamavano rock perché era gigantesco quindi pure tra i bucanieri spiccava esatto un tank sbronze a parte rock brasiliano si fece notare dai colleghi riportando in giamaica una nave spagnola di immenso valore catturata durante il suo primo ride da fratello della costa la seconda cosa per cui divenne immediatamente noto fu questa propensione alla violenza gratuita che andava un po' di moda all'epoca una volta chiese dice l'aneddoto immagino l'abbia chiesto cortesemente a alcuni contadini spagnoli di cedere i propri maiali ai pirati però i contadini anche di fronte a una richiesta legittima civile del nostro rock hanno detto no i maiali li teniamo noi dobbiamo mangiare anche noi e certo sono arrivati rock non la prende bene e decide di fare l'arrosto voi direte dei maiali no decide di dare fuoco appunto ai suoi in questo caso nemici ma nemici per la sua ottica distorta cioè dà fuoco a questi indifesi civili che avevano rifiutato di fornirgli il cibo e tra l'altro dare fuoco alle persone per rock brasiliano è un po' il marchio di fabbrica e anche lui è un torturatore e anche lui come Montbar abbiamo storie di mutilazioni che però ormai lo stiamo capendo cosa che non li giustifica questi individui ma era un po' un modo con cui tutti i bucanieri si comportavano l'olonese è solo uno degli esempi e quindi qual è la morale di tutto effettivamente rock brasiliano era uno dei pirati più temuti proprio per questa sua indole violenta e grazie per avermi risparmiato stavolta di dover scegliere scendere nei dettagli delle torturere noi ogni tanto la buttiamo pensa che a un certo punto per farti capire quanto questo era temuto pensa che a un certo punto gli spagnoli riescono a mettergli le mani addosso lo imprigionano però rock li intimidisce talmente tanto i carcerieri che lo lasciano scappare per paura di ripercussione ecco pensate vedi mi avete cattolato ma se non mi lasciate andare sono fatti rosa era bene insomma era letteralmente il boogie man era l'uomo nero degli spagnoli ma proprio letteralmente le mamme spagnole spaventavano i figli dicendo guarda che chiamo rock ma dico sul serio non è una battuta allora con un curriculum del genere ovviamente rock appunto fra i bucanieri spopolava e veniva reclutato spesso ha veleggiato combattuto torturato assieme a personaggi come l'olonese Henry Morgan e anche il nostro Mombard infatti come diceva Flavio loro erano proprio amici tra l'altro pare che abbia tirato fuori una volta dai guai proprio Mombard che era cerchiato dagli spagnoli ma è arrivato rock che gli spagnoli li spaventava solo alla vista e ha salvato anche la moglie e il figlio di Mombard che abbiamo citato prima quindi nel momento del bisogno rock è un amico su cui fare affidamento sì sì immagino che dinamico duo fossero Mombard e il rock brasiliano il Batman e il Robin dei Bucanieri tra l'altro hanno anche un destino comune visto che anche di rock dopo il 1671 si sono perse tutte le tracce non si sa che fine abbia fatto forse scomparso in mare forse catturato in segreto dagli spagnoli o forse è andato in pensione stanco di arrostire i nemici spero solo che non stia ascoltando il podcast di questo momento non si denuncia ma ci va ben alto esatto tra l'altro pare c'è anche un aneddoto che dice che è morto mendicando per le strade di Portoroia io mi immagino cosa succedeva a chi non gli dava due spiccioli di elemosina quindi insomma potrebbe anche essere finito così però Danilo per concludere in passato trovavi sempre libri film che parlavano di pirati non è qualche suggerimento sui bucanieri da un punto di vista cinematografico letteraria allora sì 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 effettivamente noi partivamo vi ricordate con Flavio che raccontava la parte storica io parlavo di Stevenson parlavo di Arthur Conan Doyle parlavo non so citavamo Melville Vern oggi invece ho trovato ormai siamo andati peggiorando via via che gli anni sono passati e ho trovato un cartone sfigatissimo chiamato The Pirates of Tortuga Under the Black Flag ma come sfigatissimo quando va detto va detto dobbiamo fare recensioni sincere è un cartone animato tedesco lo trovate anche su Youtube titolo tedesco non ve lo dì Hansel Frazer Flag le lasciamo stare tre ragazzi Alex Max e Califax scoprono il frammento di un tesoro azteco che in realtà li fa viaggiare nel tempo e si trovano nell'epoca dei pirati non incontrano rock brasiliano fortunatamente ma incontrano Anne Bonny e Barba Nera quindi un cartone d'avventura comunque dove c'è Tortuga dove ci sono pirati a noi conosciuti vi lasciamo con questa citazione passare da rock brasiliano ai cartoni animati è stato un salto anche mentale notevolissimo direi perfetto per chiudere Tortuga è anche questo ci sentiamo la settimana prossima con altre storie terribili di Bucanieri e chi non beve in compagnia secondo rock brasiliano è un uomo morto ciao libero Johnny libero oh libero Johnny libero for the world is long and the winds don't blow and it's time for us to libero to libero to libero e to libero